Se resta, il rischio è suo. Ma io non ti ho chiesto garanzie. Ho detto le stesse cose. Il maresciallo è i tre carabinieri che si sono arresi. Li abbiamo chiusi nella caserma, come lei qui dentro. Ma almeno loro sono soldati. E io sono la tua padrona. E tu sei nato e cresciuto sulla mia terra. Scusi, non parli così. Fino a questo momento abbiamo tenuto la testa a posto. Ma lei non ce la deve paginare. Scusate, babbo. Io rispetto per lei, non ho sempre avuto massimi di freddi. Lasciate parlare. Allora, cosa vuol fare? Io resto qui. Voglio vedere la fine che farete. Sarà una fine brutta per tutti. Norina, attenta che non esca. Fuori per lei è pericoloso. Se ha da dire qualche cosa, la dica a me. Ma alla svelta, anche io la devo lasciare. Allora vattene, subito. Spero che sappiate quello che vi aspetta. Da oggi? Allora vattene, subito.